Momenti divertenti dei calciatori parte 1 Paul, 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 te la porti a casa questa coppa stasera Paul, la portiamo a casa Vado a dormire con questa oggi Vuoi salutare i tifosi del Napoli? Devi salutare Eh no, è così Così, ciao Un appuntamento è il prossimo meso per parlare Genovale, sì o no Quando Milan dice Che anticipo, è incredibile Dove, dove, Pippo, è incredibile Questo è peligroso L'aveva detto, è un punto di partenza questo per questo gruppo Per farci crescere e per farci inventare grandi tutti insieme Un gruppo molto giovane che però negli ultimi mesi ha fatto dei progressi Sicuramente Sicuramente Si io sono tu pizza Un'altra domanda per te Un'altra domanda per te Prefersi fischi e chips o paella? Hamburger Forza Foggia Foggia in minusquadro Un grande abrazzatissimo io da piccoli ne ho fatti tanti perché no non sono grande però l'ambizione di cercare di espugnare quello che poteva essere paolo di bala contendi felice sono contento molto felice non posso spiegarlo troppo 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 sono contento come hai visto la partita sei contento io sono molto contento per la partita che ha fatto io sono contento per te sei troppo forte grazie mille